Ben trovati negli studi di Janta, oggi parliamo di imprenditoria al femminile e anche di un metodo per insegnare ai nostri bambini ad imparare facilmente l'inglese. Ospite nei nostri studi Valentina Pampano ed Alessia Piccioni che sono rispettivamente titolare e direttrice della scuola Kids and Us. Ben trovate? Grazie. Insomma, parliamo di questa idea della scuola Kids and Us. In un momento in cui c'è una grave crisi economica nel nostro territorio, un'iniziativa interessante di imprenditoria femminile. Come nasce? L'idea della scuola è nata l'anno scorso da un'esigenza personale mia e della mia cotitolare che si chiama Francesca Mannozzi e che oggi non è presente qui a rappresentare la scuola. Noi fondamentalmente siamo due mamme che si sono rese conto del fatto che l'inglese adesso è fondamentale per la vita sia nostra personale sia dei nostri figli. Quindi, vedendo le capacità dei nostri figli ad imparare senza fare il minimo sforzo, abbiamo pensato che fosse necessario e obbligatorio fare qualcosa per i nostri bambini. Da questo abbiamo cercato qualcosa di veramente importante che fosse significativo per l'insegnamento dei bambini e siamo arrivati con enormi difficoltà perché questa scuola che poi abbiamo aperto, la Kids and Us, non è così presente nel territorio italiano perché erano aperte soltanto due scuole quando noi abbiamo fatto questa ricerca, però siamo rimasti subito affascinati da questo mondo così colorato, abbiamo fatto ulteriori ricerche in merito e siamo andati a conoscere da vicino la nostra rappresentante in Italia perché il metodo nasce in Spagna. Così siamo rimasti affascinati da questo mondo e abbiamo detto non possiamo privare i nostri figli di un'occasione del genere e coraggio a quattro mani e i numeri che un po' ci dicevano sì potete farcela abbiamo deciso di aprire questa scuola. Quindi il coraggio di due mamme che si trasforma in un'esperienza imprenditoriale. Con Alessia vogliamo parlare, visto che sei la direttrice della scuola, di questo metodo Kids and Us da cui prende proprio il nome questa scuola che voi citavate perché studi recenti hanno dimostrato che proprio il cervello dei nostri bambini nasce bilingue quindi è più flessibile. Come si struttura questo metodo? Sì allora inizialmente come ha ricordato anche Valentina la scuola Kids and Us nasce in Spagna e questo metodo nasce quindi in Spagna. Attualmente in Spagna ci sono 140 scuole con 25.000 bambini che imparano ogni giorno l'inglese. In Italia si configura sempre di più come una language school quindi una scuola comunque di lingue tant'è che da quest'anno chi se nasce apre le porte anche allo spagnolo quindi non soltanto l'inglese. Il metodo è particolare se vogliamo perché è diverso dal metodo tradizionale ma è naturale perché si rivolge a bambini a partire da un anno di età e sfrutta la particolare capacità del bambino a imparare qualsiasi cosa quindi a maggior ragione anche una lingua. Cioè si sfrutta questa predisposizione naturale del bambino, questa intelligenza pulita del bambino che è visto dalla scuola Kids and Us come un essere con delle antenne che riesce appunto come una spugna ad assorbire tutto quello che il mondo gli offre quindi a maggior ragione anche la possibilità e la capacità di apprendere in questo caso delle nuove lingue. E per spiegare Alessia tutto quello che voi avete poc'anzi detto avete proprio pensato ad un Open Day che si terrà ad Ascoli sabato. Come sarà questo appuntamento? Sì allora sabato innanzitutto abbiamo l'onore della creatrice del metodo di Kids and Us Natalia Perernau, non vorrei dire in maniera sbagliata il nome, comunque la signora Natalia che ha portato anche in Italia il metodo Kids and Us e se posso far vedere ecco la locandina dell'evento sempre molto colorata quindi proprio in stile Kids and Us, l'evento si terrà ad Ascoli nella sala dei savi di Palazzo dei Capitani del Popolo alle ore 17 quindi ricordiamo ovviamente alla presenza delle due titolari Valentina Pampano e Francesca Mannozzi ci sarà anche Natalia Perernau che è la creatrice del metodo Kids and Us e la master francese or Italia Claudia Torrisi che è la referente della scuola di Roma e ovviamente di tutte le scuole d'Italia. Sappiamo che ci sono anche dei riferimenti internet, una pagina Facebook dedicata all'appuntamento Sì assolutamente, anzi cliccate mi piace sulla nostra pagina Facebook Kids and Us Ascoli Piceno e ovviamente il sito per avere ulteriori informazioni è www.kidsandus.it Avete detto tutto, sono state davvero bravissime le mie ospiti io ricordo ai nostri amici che per Kids and Us abbiamo avuto oggi nei nostri studi Alessia Piccioni, direttrice della scuola Kids and Us e Valentina Pampano che era titolare e ringraziamo e salutiamo anche la vostra collega in bocca al lupo per l'appuntamento Crepi il lupo Crepi il lupo Grazie! 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 Grazie!